Housebed Audiobooks presenta Percy Jackson e gli dèi dell'Olimpo, il ladro di fulmini. Episodio 17. Capitolo 19. Scopriamo la verità, più o meno. Immaginate la folla da concerto più grande che abbiate mai visto, un campo da football gremito di un milione di fan. Ora immaginate un campo un milione di volte più grande, pieno di gente. E immaginate che l'impianto elettrico si sia spento e che non ci sia nessun rumore, nessuna luce, nessun pallone gonfiabile che rimbalza tra la folla. Dietro le quinte è accaduto qualcosa di tragico. Masse bisbiglianti di persone si muovono alla rinfusa nelle tenebre, aspettando un concerto che non comincerà mai. Se riuscite a figurarvi tutto questo, avete un'idea abbastanza buona delle praterie degli asfodeli. L'arba nera era stata calpestata da secoli di piedi morti. Spirava un vento caldo e umido, come l'alito di una palude. Alberi neri, Grover mi disse che erano pioppi, crescevano qua e là in rademacchie. Il soffitto della caverna era talmente alto che avrebbe potuto essere un banco di nubi temporalesche, se non fosse per le stalattiti. Degli spuntoni a guzzi che mandavano un lieve bagliore grigiasso. Cercai di non immaginare che potessero staccarsi da un momento all'altro, ma in mezzo ai campi ce n'erano diverse ficcate nell'erba nera. Immagino che i morti non dovessero preoccuparsi di piccoli rischi come quello di farsi infilzare da stalattiti grandi come razzi spaziali. Cercammo di confonderci fra la folla, tenendo un occhio aperto sugli eventuali demoni della vigilanza. Non riuscì a fare a meno di scrutare gli spiriti in cerca di facce note, ma è difficile guardare i morti. Hanno il volto tremolante, sembrano tutti leggermente arrabbiati o confusi. Si accostano per parlarti, ma le loro voci somigliano a un cicaleccio stridulo, come un cinguettio di pipistrelli. Non appena si rendono conto che non riesci a comprenderli, si accigliano e si allontanano. I morti non fanno paura, sono soltanto tristi. Avanzammo lentamente, seguendo la fila dei nuovi arrivati che, dalle porte principali, serpeggiava verso un padiglione di tela nera, con uno striscione che diceva «Giudizi per l'Elysio e la dannazione eterna». Benvenuti novelli estinti. Da dietro la tenda fuoriuscivano due file molto più piccole. A sinistra, i demoni della vigilanza ascoltavano gli spiriti lungo un sentiero in discesa, verso i campi della pena, che baluginavano e fumavano in lontananza. Un vasto territorio desolato e arido, solcato da fiumi di lava, campi minati e chilometri e chilometri di filo spinato che separavano le diverse aree di tortura. Perfino da quella distanza riuscivo a scorgere persone inseguite da segugi infernali o bruciate allo spiedo, costrette a correre nude fra i cactus oppure ad ascoltare l'opera. Distinguevo perfino una collinetta con la sagoma minuscola di Sisifo, che sfacchinava per spingere il suo masso fino in cima. Ovviamente vidi anche torture peggiori, cose che non ho voglia di descrivere. La fila che sbucava alla destra del padiglione del giudizio era molto meglio. Si dirigeva verso una valletta circondata da mura, una sorta di comunità residenziale privata che sembrava essere l'unico angolo felice degli inferi. Oltre la porta blindata c'erano quartieri di splendide case di ogni epoca, ville romane, castelli medievali e tenute vittoriane. Fiori d'oro e d'argento spuntavano nei prati. L'erba si increspava con i colori dell'arcobaleno. Riuscivo a sentire il suono delle risate e il profumo del barbecue. Era l'elisio. In mezzo alla valle c'era uno scintillante laghetto azzurro con tre piccole isole simili a un villaggio vacanze delle Bahamas. Le isole dei beati per coloro che avevano scelto di nascere tre volte e per tre volte si erano meritati l'elisio. Capì subito che quello era il posto in cui sarei voluto andare da morto. Ecco la morale della favola, disse Annabeth come se mi leggesse nel pensiero. Quello è il posto destinato agli eroi. Pensai a quanto poche fossero le persone che ci abitavano, a quanto piccolo fosse l'elisio in confronto alle praterie degli asfodeli o perfino ai campi della pena. Davvero così poche persone facevano del bene nella propria vita. Era deprimente. Lasciamo il padiglione del giudizio e ci addentrammo nelle praterie degli asfodeli. Si fece più buio. I colori dei nostri vestiti scomparvero. Il brusio degli spiriti alle nostre spalle si affievolì. Dopo qualche chilometro a piedi sentimmo in lontananza dei versi striduli e familiari. Un palazzo di scintillante ossidiana nera si stagliava minaccioso all'orizzonte. Sopra i parapetti volteggiavano tre creature simili a pepistrelli. Erano le furie. Ebbi la sensazione che ci stessero aspettando. Suppongo che sia troppo tardi per tornare indietro. Sospirò Grover con una punta di rimpianto. Andrà tutto bene. Mi sforzai di sembrare sicuro. Forse dovremmo cercare in altri posti prima. Suggerì lui. Tipo nell'elisio? Coraggio ragazzo capra. Annabeth lo prese per un braccio. Grover gridò. Le ali delle sue scarpe spuntarono fuori all'improvviso spingendogli le gambe in avanti e strappandolo da Annabeth. Atterrò di schiena in mezzo all'erba. Grover! Lo rimproverò Annabeth. Smettila! Ma io non... gridò di nuovo. Le scarpe adesso svolazzavano senza freni. Si levarono da terra e lo trascinarono via. Maya! Maya! Protestò lui ma la parola magica sembrava non avere più effetto. Maya! Ho detto Maya! Polizia aiuto! Superato lo stupore cercai di agguantare la mano di Grover ma era troppo tardi. Stava prendendo velocità slittando giù per la collina come un bob. Gli corremmo dietro e Annabeth gli suggerì SLACCIATI LE SCARPE! Geniale! Ma immagino che non sia tanto facile quando le scarpe in questione ti trascinano mentre tu sei in posizione orizzontale. Grover cercava di raddrizzarsi ma non riusciva ad avvicinarsi ai lacci. Continuamo a stargli dietro cercando di non perderlo di vista mentre zigzagava tra le gambe degli spiriti che lo evitavano infastiditi. Ero sicuro che Grover avrebbe imboccato a tutta birra le porte del palazzo di Ade ma le scarpe sterzarono bruscamente a destra trascinandolo nella direzione opposta. Il pendio si fece più ripido e Grover prese velocità mentre Annabeth ed io acceleravamo per stargli dietro. Le pareti della caverna si fecero più strette e capì che eravamo entrati in una specie di tunnel laterale. Non c'erano più alberi e neanche erba ma solo roccia e la luce fioca delle stalattiti sul soffitto. Grover! gridai facendo riecheggiare la mia voce. Aggrappati a qualcosa! A cosa? strillò lui di rimando. Cercò di afferrare la ghiaia ma non c'era niente di abbastanza grosso da rallentarlo. Il tunnel diventò più buio e freddo. Mi si drizzarono i peli sulle braccia. Percepivo l'odore del male che mi costrinse a pensare a cose di cui non avrei dovuto nemmeno conoscere l'esistenza. Sangue versato su un antico altare. Il fiato immondo di un assassino. Poi vidi quello che avevamo di fronte e rimasi di stucco. Il tunnel si apriva in un'enorme caverna buia solcata nel mezzo da una voragine grande quanto un quartiere. Grover stava scivolando dritto filato verso l'orlo del precipizio. Muoviti persi! Mi esortò Annabeth tirandomi per il polso. Ma quello è... lo so! gridò. Il luogo del tuo sogno. Grover ci cadrà dentro se non lo fermiamo in tempo. Aveva ragione naturalmente. Il guaio in cui si trovava Grover mi rimise in moto. Lui stava cercando di artigliarsi al terreno ma le scarpe alate continuavano a trascinarlo verso il baratro e raggiungerlo in tempo ormai sembrava impossibile. Lo salvarono gli zoccoli. Le scarpe volanti gli erano sempre state un po' grandi e alla fine Grover sbatte contro un masso e la scarpa sinistra si staccò continuando a sfrecciare finché non si tuffò giù nella voragine. La destra continuò a trascinarlo ma aveva perso velocità. Grover riuscì a rallentare aggrappandosi al masso e usandolo come un ancora. Era tre metri dall'orlo del precipizio quando riuscimmo a raggiungerlo e a trascinarlo via di peso su per il pendio. L'altra scarpa volante si staccò da sola svolazzandoci attorno indiavolata e riempiendoci di pedate sulla testa prima di tuffarsi a sua volta nella voragine per riunirsi alla sua gemella. A quel punto crollammo tutti e tre, esausti sulla ghiaia di ossidiana. Mi sentivo il corpo di piombo. Perfino lo zaino sembrava più pesante, come se qualcuno l'avesse riempito di pietre. Grover era ridotto piuttosto male. Era pieno di graffi e gli sanguinavano le mani. Gli occhi avevano le pupille assottigliate, da capra, come succedeva sempre quando era terrorizzato. Non so come... Anzi mo... Io non... Aspetta! Lo interruppi io. Ascolta! Sentivo qualcosa. Un sussurro profondo che veniva giù dall'oscurità. Un'altra manciata di secondi e Annabeth disse Percy, questo posto... Shhh! Mi alzai in piedi. Il suono si stava facendo più intenso. Era una voce cantilenante e maligna che saliva dal basso, sotto di noi, giù in profondità. Veniva dal baratro. Grover si drizzò a sedere. Che cos'è questo rumore? Anche Annabeth lo sentiva adesso. Glielo leggevo negli occhi. Tartaro. L'ingresso del tartaro. Tolsi il cappuccio ad Anaclusmos. La spada di bronzo si allungò, scintillando nell'oscurità. E la voce maligna si inceppò per un attimo, per poi riprendere la sua cantilena. Riuscivo quasi a distinguere le parole adesso. Parole molto, molto antiche. Perfino più del greco. Come se fossero parole di magia, dissi ad alta voce. Dobbiamo andarcene da qui, incalzò Annabeth. Insieme rimettemmo Grover in piedi e cominciamo a risalire il tunnel. Le mie gambe si rifiutavano di andare in fretta. Il peso dello zaino mi rallentava ancora di più. Alle nostre spalle la voce si fece più forte e rabbiosa. Così ci mettemmo a correre, appena in tempo. Una gelida raffica di vento cercò di risucchiarci, come se l'intero baratro stesse ispirando aria. Per un attimo terrificante persi terreno. I piedi che scivolavano sulla ghiaia. Se fossimo stati appena più vicini al bordo, ci avrebbe inghiottito. Continuamo ad arrancare e finalmente sbucammo fuori dal tunnel, dove la caverna si apriva sulle praterie degli asfodeli. Il vento si placò. Un gemito di stizza riecheggiò dalle profondità del tunnel. Qualcuno non era contento della nostra fuga. Ma che cos'era? Chiese Grover col fiato mozzo quando ci accasciamo al riparo di un boschetto di pioppi neri. Uno degli animaletti di Ade? Io e Annabeth ci scambiamo uno sguardo. Capì che stava rimuginando qualcosa. Probabilmente la stessa idea che aveva avuto sul taxi per Los Angeles. Ma era troppo spaventata per condividerla con noi. E questo bastò a terrorizzarmi. Rimisi il cappuccio alla spada e mi infilai come al solito la penna in tasca. Andiamo, guardai Grover. Ce la fai a camminare? Lui deglutì. Sicuro? E poi non mi erano mai piaciute quelle scarpe. Si sforzava di sembrare coraggioso ma tremava quanto noi. Qualunque cosa ci fosse in quel baratro non era l'animaletto di nessuno. Era qualcosa di antico e potente. Nemmeno Echidna mi aveva trasmesso quella sensazione. Fu quasi un sollievo dare le spalle al tunnel e dirigersi al palazzo di Ade. Quasi. Le furie volteggiavano in alto sopra i parapetti, nell'oscurità. I muri esterni della fortezza scintillavano di nero e le immense porte di bronzo erano spalancate. Avvicinandomi vidi le incisioni che le decoravano. Rappresentavano tutte scene di morte. Alcune erano di epoca moderna. Una bomba atomica che esplodeva sopra una città, una trincea piena di soldati con le maschere antigas o una fila di vittime della carestia africana con le scodele vuote. Ma tutte sembravano impresse nel bronzo da migliaia di anni. Mi chiesi se non stessi guardando delle profezie che si erano già avverate. All'interno del cortile c'era il giardino più bizzarro che avessi mai visto. Funghi multicolori, arbusti velenosi e curiose piante luminescenti crescevano senza bisogno di luce. Le pietre preziose rimediavano all'assenza di fiori. C'erano mucchi di rubini grandi come un pugno, cumuli di diamanti grezzi. Sparse qua e là, come gli ospiti congelati di una festa, c'erano le statue da giardino di Medusa. Bambini, satiri e centauri pietrificati. Tutte con un sorriso grottesco in volto. Al centro del giardino un frutteto di melograni con i fiori arancioni che brillavano come neon nell'oscurità. Il giardino di Persephone, spiegò Annabeth. Non vi fermate. Capì subito perché ci avesse messo fretta. Il profumo squisito dei melograni era quasi travolgente. Avverti l'improvviso desiderio di mangiarne uno, ma poi mi ricordai la storia di Persephone. Un solo morso del cibo degli inferi e saremmo rimasti laggiù per l'eternità. Tirai via Grover per impedirgli di afferrare un grosso frutto succoso. Risalendo la scalinata del palazzo, ci addentrammo nella casa di Ade, superando un colonnato e un portico di marmonero. Il pavimento dell'atrio era di bronzo levigato e sembrava ribollire alla luce riflessa delle torce. Non c'era soffitto. Solo il tetto della caverna in lontananza. Immagino che laggiù non dovessero mai preoccuparsi della pioggia. Accanto ad ogni porta stava uno scheletro di sentinella, vestito con una divisa militare. Alcuni indossavano l'armatura greca, altri l'uniforme delle giubbe rosse inglesi, ed altri ancora la mimetica con la bandiera a stelle e strisce lacerata sulle spalle. Erano armati di lance, moschetti o M16. Nessuno ci disturbò, ma mentre ci dirigevamo verso le grandi porte in fondo all'atrio, non ci staccarono mai le orbite vuote di dosso. Due scheletri di marina americani erano di guardia alle porte. Ci scrutarono con un ghigno, i lanciabombe a propulsione portati davanti al petto. «Scommetò che Ade non ha problemi con i venditori porta a porta», scherzò Grover. Il mio zaino pesava una tonnellata adesso, ma non riuscivo a capire perché. Avevo voglia di aprirlo per controllare che non ci fosse finita dentro una palla da bullying per sbaglio, ma non era il momento giusto. «Beh, ragazzi», dissi. «Suppongo che dovremmo bussare?» Un vento caldo spazzò il corridoio e le porte si spalancarono, mentre le guardie si fecero da parte. «Immagino che significhi avanti», commentò Annabeth. «Dentro, la sala era identica a quella del mio sogno. Solo che stavolta il trono di Ade era occupato. Era il terzo dio che incontravo, ma era il primo che mi colpiva davvero per il suo aspetto divino. Era alto almeno tre metri. Indossava delle vesti di seta nera e una corona d'oro intrecciato. La pelle era di un pallore albino, i capelli lunghi fino alle spalle e neri, neri come la pece. Non era muscoloso come Ares, ma irradiava potere. Era adagiato sul suo trono, fatto di ossa umane fuse. Flessuoso, aggraziato e pericoloso come una pantera. Mi sentii subito come se fosse lui ad avere il comando. Lui ne sapeva più di me. Doveva essere il mio padrone. Poi mi dissi di piantarla. Laura di Ade mi stava condizionando, proprio come aveva fatto quella di Ares. Il Signore dei Morti somigliava alle immagini che avevo visto di Hitler. O Napoleone. O uno di quei leader terroristici che guidavano i kamikaze. Ade aveva gli stessi occhi intensi. Lo stesso genere di carisma maligno, ipnotizzante. Hai del coraggio a presentarti qui, figlio di Poseidone. Esordii con una voce melliflua. Dopo quello che mi hai fatto, hai davvero del coraggio. O forse sei soltanto molto sciocco. Una sensazione di stordimento mi afferrò le membra, instillandomi la tentazione di stendermi la terra e fare un sonnellino ai piedi di Ade. Raggomitolarmi e dormire per sempre. Repressi quella sensazione e feci un passo avanti. Sapevo cosa dovevo dire. Divino zio, sono venuto a porgerle due richieste. Ade inarcò un sopracciglio. Quando si sporse in avanti sul trono, dei volti indistinti apparvero nelle pieghe delle sue vesti nere. Volti tormentati, come se quegli abiti fossero stati cuciti con le anime dei campi della pena che cercavano di scappare. La mia parte iperattiva si chiese, un po' sproposito, se anche il resto dei suoi vestiti fosse nella stessa foggia. Quali orrori dovevi compiere in vita per finire nelle mutande di Ade? Solo due richieste, replicò Ade. Marmocchio arrogante, come se non avessi già preso abbastanza. Parla dunque. Per il momento mi diverto ancora a non fulminarti subito. De gluti. Le cose stavano andando proprio come avevo temuto. Lanciai un'occhiata al trono più piccolo e vuoto accanto a quello di Ade. Era a forma di fiore nero, con dorature sui bordi. Avrei voluto che la regina Persephone fosse lì. Mi sembrava di ricordare dai miti che fosse capace di placare le ire del marito. Ma era estate. Naturalmente Persephone era nel mondo della luce insieme alla madre Demetra, la dea dell'agricoltura. Erano le sue visite, non l'inclinazione del pianeta a creare le stagioni. Annabeth si schiarì la voce. Mi incoraggiò dandomi dei colpetti col dito sulla schiena. Divino Ade, cominciai. Ascolti, signore. Non può esserci una guerra fra gli dèi. Sarebbe brutto. Molto brutto, aggiunse Grover per sostenermi. Mi consegni la folgore di Zeus, continuai. La prego, signore. Mi... mi permetta di riportarla sull'Olimpo. Gli occhi di Ade si fecero pericolosamente accesi. Osi avanzare questa pretesa dopo quello che hai fatto. Mi voltai a guardare i miei amici. Sembravano confusi quanto me. Eh, zio, dissi. Lei continua ad accusarmi, ma che cosa avrei fatto di preciso? La Sala del Trono tremò così forte che probabilmente si era sentito anche al piano di sopra, a Los Angeles. Dal soffitto della caverna piovvero dei detriti. Tutte le porte si spalancarono violentemente e centinaia di scheletri guerrieri di ogni epoca e nazione della civiltà occidentale si riversarono nella Sala del Trono, schierandosi lungo le pareti e bloccando le uscite. Adetuo no. Pensi che io voglia la guerra, piccolo Dio? Avevo voglia di rispondere... beh, questi tipi non sembrano esattamente dei pacifisti, ma pensai che non era una mossa molto diplomatica. Lei è il signore dei morti, risposi cauto. Una guerra espanderebbe il suo regno. Tipico dei miei fratelli. Pensi che abbia bisogno di altri sudditi. Non hai visto il disordine che c'è nelle praterie degli asfodeli? Beh... Hai la minima idea di quanto si sia ingrandito il mio regno solo nell'ultimo secolo? Di quanti nuovi padiglioni io abbia dovuto aprire? Apri la bocca per rispondere, ma Ade ormai andava a ruota libera. Altri demoni di vigilanza. Si lamentò. Ingorghi al padiglione del giudizio. Doppi straordinari per il personale. Una volta ero un dio ricco, Percy Jackson. Ho accesso a tutti i metalli preziosi del sottosuolo. Ma quante spese! Caronte vuole un aumento di stipendio. Aggiunsi ricordandomelo in quell'istante. Ma un attimo dopo avrei voluto essermi cucito la bocca. Non me ne parlare! Caronte è diventato impossibile da quando ha scoperto i vestiti firmati. Ci sono problemi ovunque e devo risolverli tutti io, personalmente. Solo il tempo che ci metto dal mio palazzo alla porta degli inferi basta farmi impazzire! Gridò Ade. E i morti continuano ad arrivare! No, piccolo dio! Non mi serve aiuto per avere altri sudditi. Non l'ho voluta io, questa guerra. Ma lei ha preso la folgore di Zeus. Menzugne! La terra tremò di nuovo. Ade si alzò dal trono in tutta la sua altezza, svettando come il palo di un campo da football. Tuo padre potrà anche ingannare Zeus, ragazzino. Ma io non sono così stupido. Capisco il suo piano. Il suo piano. Sei tu, il ladro del solstizio d'inferno. Mi accusò. Tuo padre sperava di farti restare il suo piccolo segreto. Ti ha guidato lui nella sala del trono, sull'Olimpo. Se non avessi inviato la mia furia a stanarti in quella scuola, forse Poseidone sarebbe riuscito a nascondere i suoi piani di guerra. Ma ora sei stato costretto a uscire allo scoperto. Sarai smascherato come il ladro di Poseidone e io riavrò il mio elmo. Ma... Intervenne Annabeth. Intuivo che la sua mente viaggiava alla velocità della luce. Divino Ade, davvero è sparito anche il suo elmo dell'oscurità. Non fare l'innocentina con me, ragazzina. Tu e il Satiro avete aiutato questo... Eroe. Siete venuti fin qui a minacciarmi in nome di Poseidone. Siete venuti a consegnarmi un ultimatum. Poseidone pensa forse di convincermi a schierarmi dalla sua parte con il ricatto. No! Poseidone non... Io non... Non ho detto nulla della scomparsa dell'elmo! Perché non mi illudevo di trovare qualcuno risposto a offrirmi la minima giustizia, il minimo aiuto! Ringhiò Ade. Sull'Olimpo. Non posso permettere che si venga a sapere che la mia più potente arma di terrore è scomparsa. Perciò vi ho cercato con le mie forze. E quando è stato chiaro che stavate venendo da me per minacciarmi, non ho cercato di fermarvi. Lei non ha cercato di fermarci, ma... Restituitemi subito l'elmo o fermerò la morte. Concluse. Ecco la mia controproposta. Squarcerò la terra e riverserò i morti nel mondo. Trasformerò le vostre città in un incubo. E tu, Percy Jackson, il tuo scheletro guiderà il mio esercito fuori dall'Ade. Tutti quei soldati scheletro fecero un passo avanti spianando le armi. A questo punto probabilmente avrei dovuto essere terrorizzato e invece no. Strano. Ma mi sentivo offeso. Niente mi faceva più infuriare di quando mi accusano di qualcosa che non ho commesso. E avevo un sacco di esperienza al riguardo. Lei è malvagio come Zeus, replicai. Pensa che io l'abbia derubata. È per questo che mi ha scatenato contro le furie? Naturalmente, rispose Ade. E gli altri mostri? Ade contrasse le labbra. Con loro non ho avuto niente a che fare. Non volevo regalarti una morte rapida. Volevo che ti portassero vivo al mio cospetto. Per riservarti tutte le torture dei campi della pena. Perché credi che ti abbia lasciato entrare nel mio regno così facilmente? Facilmente? Restituiscimi la mia proprietà! Ma io non ho il suo elmo, sono venuto qui per la folgore! Quella è già nelle tue mani! Gridò Ade. Te la sei portata dietro fin qui, piccolo sciocco. Pensando di potermi minacciare. Ma non è vero! Apri il tuo zaino allora. A quel punto ebbe un orribile presentimento. Lo zaino che pesava come una palla da bowling, ma... È impossibile! Me lo sfilai dalle spalle e tirai la zip. Dentro c'era un cilindro metallico lungo una sessantina di centimetri, con le estremità puntite e ronzante di energia. Persi! Fece Annabeth. Ma come? Non lo so, non capisco! Voi eroi siete tutti uguali, intervenne Ade. L'orgoglio vi rende sciocchi. Pensare di portare un'arma del genere al mio cospetto. Non ho mai chiesto la folgore di Zeus, ma dal momento che è qui, l'accederai a me. Sono sicuro che sarà un ottimo strumento di trattativa. E adesso... Il mio... Ilmo... Dov'è? Ero senza parole. Non avevo nessun elmo. Non avevo idea di come la folgore fosse finita nel mio zaino. Preferivo immaginare che Ade mi stesse giocando un brutto tiro. Era Ade il cattivo. All'improvviso il mondo si capovolse. Capii che mi avevano usato. Era stato qualcun altro ad aizzare la lite fra Zeus, Poseidone ed Ade. La folgore era nel mio zaino e io avevo ricevuto lo zaino da... Divino Ade, aspetti, dissi. È tutto un errore. Un errore? Tuonò Ade. Gli scheletri puntarono le loro armi. Dall'alto si udì un battito di ali di pipistrello e le tre furie piombarono giù appollaiandosi sullo schienale del trono del padrone. Quella con la faccia della Doz mi rivolse un ghigno facendo schioccare la frusta. Non c'è nessun errore, esclamò Ade. So perché sei venuto. Conosco la vera ragione per cui hai portato la folgore. Sei venuto a scambiarla... con lei. Ade liberò una sfera di fuoco dorato dalla mano. Esplose sui gradini di fronte a me e comparve mia madre, immobilizzata in una pioggia d'oro, colta nell'istante in cui il minotauro aveva iniziato a strangolarla a morte. Non riuscivo a parlare. Cercai di toccarla ma... la luce scottava come un falò. Sì... Disse Ade con soddisfazione. L'ho presa io. Sapevo, Percy Jackson, che saresti venuto a contrattare con me alla fine. Restituiscimi l'elmo e forse la lascerò andare. Non è morta, sai? Non ancora. Ma se non mi accontenterai, le cose cambieranno. Pensai alle perle che avevo in tasca. Forse potevano tirarmi fuori di lì, se... se solo fossi riuscito a liberare mia madre. Ah, le perle. Aggiunse Ade e mi sigelò il sangue. Sì, mio fratello e i suoi trucchetti. Mostramele, Percy Jackson. La mia mano si mosse contro la mia volontà e tirai fuori le perle. Solo tre. Prova a prendere tua madre allora, piccolo Dio. E quale dei tuoi amici lascerai qui a trascorrere l'eternità con me? Coraggio, scegli. O consegnami lo zaino e accetta le mie condizioni. Guardai Annabeth e Grover. Avevano la faccia cupa. Siamo stati ingannati, dissi loro. Ci hanno incastrato. Sì, ma perché? Chiese Annabeth. E quella voce nel baratro? Ancora non lo so, risposi. Ma ho intenzione di chiederlo. Deciditi, ragazzino. Incalzò Ade. Percy. Grover mi mise una mano sulla spalla. Non puoi consegnargli la folgore. Questo lo so. Allora, lasciami qui. Si offrì. Usa la terza perla per tua madre. No, sono un satiro. Insistette Grover. Non abbiamo un'anima come gli umani. Puoi torturarmi a morte, ma non mi avrà per sempre. Mi reincarnerò in un fiore o roba del genere. È la cosa migliore. No. Annabeth estrasse il suo coltello di bronzo. Voi due andate avanti. Grover, tu devi proteggere Percy. Devi ottenere la tua licenza e andare alla ricerca di Pan. Porta sua madre fuori di qui. Ti copro io. Conto... Conto di cadere in battaglia. Ma neanche per idea! Protestò Grover. Resto io. Rifletti, ragazzo capra! Disse Annabeth. Piantatela! Era come se mi stessero strappando il cuore in due. Ne avevamo passate così tante insieme. Ripensai a Grover che si lanciava impicchiata su Medusa nel giardino delle statue. O ad Annabeth che ci salvava da Cerbero. Eravamo sopravvissuti al tunnel dell'amore di Efesto. All'arco di St. Louis. Al casino Lotus. Per tutta la strada mi ero preoccupato del tradimento di un amico, ma... Quegli amici non mi avrebbero mai tradito. Non avevano fatto altro che salvarmi in continuazione. E adesso... Erano pronti a sacrificare la propria vita per mia madre. So che cosa fare. Conclusi. Prendete queste. Consegnai una perla ciascuno. Annabeth disse... Ma... Persi! Mi voltai a guardare mia madre. Avrei voluto disperatamente sacrificare me stesso e usare l'ultima perla su di lei. Ma... Sapevo cosa mi avrebbe detto. Non me lo avrebbe mai permesso. Dovevo riportare la folgore sull'Olimpo e dire a Zeus la verità. Dovevo fermare la guerra. Non mi avrebbe mai perdonato se avessi scelto di salvare lei. Ripensai alla profezia ricevuta alla collina Mezzosangue. Quel giorno che... Adesso sembrava lontanissimo. E alla fine non riuscirai a salvare ciò che più conta. Mi dispiace. Le dissi. Tornerò. Troverò un modo. L'espressione compiaciuta sul volto di Ade si spense. Poi disse... Piccolo Dio, cosa? Troverò il suo elmo, zio! Gli dissi. E glielo restituirò. Si ricordi di aumentare lo stipendio a Caronte! Non sfidarmi. E dovrebbe giocare un po' di più con Cerbero di tanto in tanto. Gli piacciono le palle di gomma rosse. Pessi Jackson, tu non... Ora ragazzi! Infrangemmo le perle ai nostri piedi. Per un attimo spaventoso... Non successe nulla. Ade ordinò... Distruggeteli! L'esercito di scheletri si precipitò in avanti, le spade sguainate e i colpi in canna. Le furie si tuffarono verso di noi con le fruste che essi infuocavano. Nell'istante in cui gli scheletri aprirono il fuoco, i frammenti di perla ai miei piedi esplosero in uno scoppio di luce verde, liberando un soffio di fresca brezza marina. Una candida sfera lattiginosa mi inghiottì e si staccò da terra. Annabeth e Grover erano alle mie spalle. Lance e proiettili scintillavano innocui sulle nostre bolle perlace mentre fluttuavamo verso l'alto. Ade gridò con una tale rabbia che l'intera fortezza tremò e capì che Los Angeles non avrebbe avuto una notte tranquilla. Guardate su! gridò Grover. Stiamo per schiantarci! Alzai lo sguardo e vidi che stavamo salendo a tutta birra verso le stalattiti. Rischiavamo di finire infilzati allo scoppio delle bolle. Come si fa a controllare questi affari? Chiese Annabeth. Non credo sia possibile! Risposi. Quando le perle si schiantarono sul soffitto, strillammo a squarciagola. Poi... il buio. Eravamo morti? No. Avvertivo ancora la sensazione della corsa. Stavamo salendo, attraversando la roccia massiccia come una bolla d'aria nell'acqua. Dunque, era questo il potere delle perle. Ciò che appartiene al mare, al mare farà sempre ritorno. Per qualche momento non riuscì a vedere nulla al di fuori delle pareti levigate della mia sfera. Poi, la mia perla sbuccò sul fondo dell'oceano. Le altre due sfere lattiginose di Annabeth e Grover tenero il passo con la mia mentre ci libravamo verso l'alto nell'acqua. Finché non esplodemmo in superficie nel bel mezzo della baia di Santa Monica, buttando giù un tizio dal surf e beccandoci un indignato «Ehi, bello!» Afferrai Grover e lo trascinai fino ad un salvagente. Poi presi Annabeth ed aiutai anche lei. Uno squalo curioso prese a girarci attorno. Un bestione bianco lungo oltre tre metri. «Es mamma!» Gli dissi. Lo squalo si girò e filò via. Il surfista biascicò qualcosa a proposito di certi funghi andati a male e schizzò via nuotando sulla sua tavola. In qualche modo sapevo che era fosse. Era il primo mattino del 21 giugno, il giorno del solstizio d'estate. In lontananza si vedeva Los Angeles in fiamme, con i pennacchi di fumo che si levavano da tutti i quartieri della città. E va bene, c'era stato un terremoto ed era stata colpa di Ade. Probabilmente mi stava inviando contro un esercito di morti perfino in quello stesso istante. Ma in quel momento gli inferi non erano il mio problema più grosso. Dovevo arrivare alla costa. Dovevo riportare la folgore di Zeus sull'Olimpo. Ma soprattutto dovevo fare una seria chiacchierata con il dio che mi aveva ingannato. Grazie per aver ascoltato e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao! Grazie per aver guardato il video.